scusi cosa sto facendo ho bisogno di un paio di occhiali ma non me li posso permettere sciocco non sai che da opti lab c'è lo sconto estivo 25 per cento sul primo occhiale 50 sul secondo questo cambia tutto quest'estate fa il colpo grosso da opti center del gruppo opti lab se compri il primo occhiale da vista hai uno sconto del 25 per cento e se acquisti il secondo da vista o sole ai 50 ti aspettiamo a gorlago in via primo maggio 3c sono bond james bond